Ciao a tutti, questo è Electric Apu. Si scrive Peo, ma si pronuncia... Ah, adesso dovrei scegliere anche la lingua. Fanculo mio gioco mi regole. Signori, stiamo per iniziare una Nuzlocke Blind Run, una Blind Nuzlocke, non so come si chiami. Innanzitutto io mi chiamo Pdor. Che cos'è una Blind Run? Una Blind Run è quando fai un gioco per la prima volta senza sapere un ceppo di questo gioco. Che cos'è una Nuzlocke? Una Nuzlocke è una serie di regole autoimposte in un gioco Pokémon per renderli un po' più challenging, un po' più una sfida. Dato che i giochi Pokémon in realtà sono un po' per bambini, sempre più, e la loro difficoltà è pressoché inesistente, io scelgo, per mia volontà, di affrontare per la prima volta Pokémon Scudo in una Nuzlocke. La regola numero uno è che puoi catturare un solo Pokémon per percorso, e deve essere il primo Pokémon che hai incontrato in quel percorso. Regola numero due. Devi dare un nome a quel Pokémon in modo che ti affezioni, perché regola numero tre. Se viene battuto, muore. E prima che ci sia qualcuno che dica Ma perché non ti godi il gioco visto che la prima... È così che io scelgo di godermi il gioco. Piuttosto che giocarlo in modo passivo. È semplicemente schiacciare AAA con lo starter e uccidere tutto e tutti. È da arrivare alla fine, battere la lega Pokémon e poi cercare un po' di sfida nel PvP o nell'endgame, anche se è pressoché inesistente negli ultimi giochi Pokémon. Preferisco giocarlo fin da subito, in una sorta di modalità difficile. Ovviamente lo gioco in inglese perché a me piace giocare i giochi in inglese, visto che la lingua è internazionale, e poi posso cercare e trovare più facilmente informazioni riguardanti il gioco. E quindi questi sono affari miei, tanto non siamo qui per la narrativa. Oh mio Dio, che animale è mai questo? Ok, alla Game Freak si sono... Hanno fatto un festino prima di fare il design dei nuovi Pokémon. Oh, ma è il tizio che utilizzo sempre come riferimento per disegnare i Pokétuber. Guardate, un Charizardopato gigante perché alla Game Freak le megapietre non erano sufficienti e volevano inventarsi qualcos'altro di assurdamente stupido. Sì, bambini, se state guardando questo video sappiate che io sono una persona che ha giocato a Pokémon fin da sempre, dal primissimo Pokémon rosso e Pokémon blu. Quindi prima di rompere le palline e dire «eh, tu sei un hater dei Pokémon, una roba così». No, io adoro i Pokémon, non ci gioco fin dalla prima generazione, a differenza probabilmente di voi. Semplicemente sono molto più critico a riguardo sul fatto che non c'è stata grande evoluzione negli ultimi tempi. Ho paura che questo possa essere un Sole e Luna 3 piuttosto che un nuovo capitolo con meccaniche nuove e interessanti e soprattutto con contenuti, robe da fare oltre la storia. Da questo c'hai capelli a funghi. Come osi tu rivolgere la parola a me? Peo, figlio di Pdor della tribù, di Star... Questo è il suono di io che sbatto addosso ai mobili? Bum! Bum! Ah! Il miglio! Perché uno zaino è un sarcofago. È una cassa da morto. È dove io infilo i cadaveri dei bambini sconfitti. Ti piace il mio cappello a cipolla? Nella punta ci tengo la merenda. Quella pecore è stupida come quelle vere. Ehi, panzone. La tecnologia è incredibile. Voi sentite questa musica, ma nella mia testa c'è tutt'altra musica. E io continuo a sbattere addosso a tutto. Jesus. Stonk! Stonk! È un frigo formato famiglia che può contenere un sacco di cibo. Ah! Ecco cos'è! Sto arrivando, la senti la musica epica? La senti? Kisuke musica epica, per favore? So già che la musica epica di Kisuke sarà sempre Jojo related o qualcosa del genere. O al massimo sarà uno scherzo e sarà super kawaii e divertente. A me la cosa va bene lo stesso. Questo non toglie che distruggerò i sogni di chiunque mi si pari davanti. Ma il tuo Charizard non ha avuto un ruggito così minaccioso. Buuuh, che paura! Ci stiamo cacando sotto! Ah, ce li dà lui i Pokémon! Una scimmia! Un conilio! Un rospo! I Pokémon di questa generazione non mi fanno impazzire a un livello di design. Mi piace che nelle cazze indiano un po' più di vita i Pokémon però. Cosa che un po' ci mancava perché fino adesso sono sempre state delle belle statuine e non è cambiato nulla da quando erano in 2D a 3D se ci pensate. Bene, 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 signori! Siamo qui riuniti per scegliere uno di voi. Soltanto chi di voi ha gli occhi pieni di sangue e voglia di uccidere, bullizzare, rubare soldi ai bambini indifesi potrà venire con me al mio fianco e sconfiggere questo scemo. Quindi adesso mi avvicinerò a voi, soldati. E chi di voi mi colpirà di più diventerà il mio animale domestico. Farà quello che gli dico quando glielo dico. Se io dico salta, tu dici quanto in alto. Se io dico scava, tu dici quanto in basso. Se io dico caca, tu dici quanto grossa. Vediamo, iniziamo da te. Piccola scimmia insulsa, i tuoi occhi non sembrano abbastanza spietati. Ehi, coniglio, sei troppo umanoide. Mi dà fastidio. Scorbanni. E scorreggia più banni il tuo nome? Caro amico d'acqua, tutti i miei sfidanti da Giulio, Kisuke, Andre, stanno prendendo questo coniglio infame. Tu, amico d'acqua, le prenderai a sculacciate il loro coniglio infame. Anche se diventerai una versione di Greninja anoressico da quel che ho visto, verrai con me. Ovvio che darò un nome a Soble, Kisuko, così che ogni volta che ti insulterò, Kisuko si sentirà chiamato in causa. Non essere troppo felice. Sei soltanto il mio cane. E tu hai preso quello di fuoco. Ma sei idiota, allora. Tu, oh, osi sfidare me. Peo, figlio di Pdor, che è figlio di Khmer della tribù di Star. Colui che ha sfidato i grandi esseri, i colossi, durante Shadow of the Colossus. Kisuko, rompi il culo. Bravo, Kisuko. Oh, cosa? Oh, shit. Fuck. Ah, la pecora ha forza di prendere la testata del cancello, è riuscita a passare. Musica epica, grazie. Musica epica, grazie. Cosa sei tu? Kisuko, uccidilo! Uh, Rukidi, io questo lo vorrei. Per sicurezza, Kisuko, sbarazzatene, per favore. Grazie. Oh. C'è un lupotto? Hanno scritto il tuo rugito come GRIELD. Kisuko, sei pregato di non morire. Ricordiamoci che questo non ha zulo. Oh, non ha avuto effetto. Allora rugisci più forte che puoi, Kisuko. Anche quello ha effetto. Mamma, ti saluto. Anziché studiare. Vado in giro a picchiare bambini. Sei fiera di me? Sei fiera di me? Lo sarai madre. E poi potremo commettere un incesto. È un problema se sono attratto dalla mia stessa mamma? Eh? Dove devo andare? Kisuke, musica epica. Ho cinque pokeball? Quando mi sono state date? Bene signori, dobbiamo catturare il primo pokemon di questo percorso, che quello prima è morto e io voglio lui. Quindi c'è una sorta, posso un po' leggermente indirizzare la mia scelta? Prima non sapevo che ci fossero le pokeball, non sapevo che mi erano state date, ok? Quindi va bene così. Sei mio bastardo! È bello che adesso io in questo percorso non posso catturare nessun altro. Come lo chiamiamo questo bastardo? Lui un po' gli occhi assettati di sangue e ce li ha. Devo ragionarci intensamente perché non vorrei pentire. Uccello. Kisuko, quando lo impari il comando genocidio. Kisuko, quando lo impari l'attacco pena di morte. Cosa sei tu? Non mi dire che c'era una cristo di volpe. Oh mio Dio, ho sbagliato tutto. No, ho preso un uccello. Uccello! Ho preso un uccello al posto di questo. Quanto anime questo pokemon. Ha una coda che sembra uno scroto, quindi un po' ci ho ripensato. Sono felice di avere il mio uccello. Non tiratelo fuori dal contesto. Oh, mi son seduto. Così. E anche tu aspettando il prossimo treno? Dove vai? Ah no, io vado a sterminare gli animali domestici degli altri, sì. Bah, sai com'è. Mi annoio molto a casa. Non so che fare. Ciao. Rifletterò su come conquistare il mondo. Ehi! Ma è pochonf? Pronto, pochonf? Beh, devo ammettere che per ora, e non per alcun motivo di strumentalizzazione delle donne, sei la mia professoressa preferita. Non so se mi spiego. L'età non ha importanza. Ho 11 anni, ma in realtà ne ho 29. È solo il mio corpo che è giovane. Sonia, che nome bellissimo, è affascinante. Calpestami, ti prego. Senti, Sonia, facciamo così. Mi metti un guinzaio e mi chiami Cagnolino. Mi dici quello che devo fare? Io lo faccio, ma comunque sia dici che ho sbagliato e mi sputi. E quando mi sputi io apro la bocca. Ottimo piano, vero? Sa anche disegnare, Sonia. Oh mio Dio. È proprio la mia metà. Devo conquistare il mondo per dimostrare a Sonia che sono un vero uomo di 11 anni. Ma salve che abominio è mai quello al tuo fianco. Perché non lo sopprimi? Conosco un veterinario ottimo. Oh, tu cosa vendi? Fidget spinner al pomodoro? Personalizzazione, bebe! Wow, cosa posso comprare qui? Oh, le bagliette, guarda le bagliette, guarda le bagliette. Eh, i giacchetti, guarda, guarda, guarda. No, guarda i zaini. Sono delle borse. E sono borse chiaramente arena, signori. Guarda, quello è il simbolo arena praticamente. I capelli. Va bene, prendo questo soltanto perché mi ricorda il mio lavoro con arena. E vi ricordo che potete acquistare già da oggi, in realtà anche da prima, la linea Omizu. Bebe, link in descrizione. Guanti neri da killer forse sono meglio, sì. Ho finito i soldi. Guarda, questa vecchietta ha un tumore ai capelli. Ah, là dove vive il professor Pokémon. Allora Sonia cos'è? L'assistente? E se io sono l'assistente schiavo di Sonia, questo di me cosa fa per il professore? Percorso 2, signori. Prossimo Pokémon da catturare. Non mi dire che mi vuoi insegnare come si catturano i Pokémon, ne ho già uno. L'hai notato, grazie. Ma vediamo se sbuca fuori qualche Pokémon. Ehi! Ne sono sbucati troppi. Sta diminuendo un po' troppo la mia difesa, non mi fa impazzire questa cosa. Mi sa che provo già a catturarlo perché non vorrei rischiare di incassare un colpo troppo forte per il mio uccello. Ok, devo stare attento a come parlo di uccello. Preso. Sì, Caterina! Che cos'è? Entri nel suo campo visivo, attenzione! Non lo sono più. Oh, campo visivo, attenzione. Qui ti può vedere. Non lo sei più. Oh, campo visivo, attenzione. Ho visto un essere umano, adesso devo sfidarlo. Hai visto, non mi sono fatto nulla e invece te non lo accusi bene questo colpo. Ciao. Il tuo dolce viso ha completamente soppresso la mia cattiveria. Che sorriso! Oh, guardala. Non riesco ad essere minaccioso con lei, facciamo così. Se ti batto, ti permetterò di calpestarmi, sì. No, non ho problemi, tranquilla Ah, facciamo così Se ti batto io mi potrai frustare Se mi batti tu, uguale Win win for me Tu bambino vuoi sfidare me Bambino un po' più grande che sono io Wow, che abominio hai tirato Sta chiaramente chiedendo di essere ucciso Perché non può continuare a esistere così Guarda, c'è quel mostro che avevi tu prima Che cos'è quello? Pochonf! Ma questo è Pochonf! Beh, Pochonf, soltanto perché sei il cane di amico.andre Questo non toglierà E non, come dire, terminerà La mia sete omicida Kisuko, uccidi Pochonf È elettrico, Pochonf? Pochonf? No, Pochonf! Inizio Rischio la fine, di già? Rischio di perdere Kisuko? Per colpa di Pochonf? Vieni via, Kisuko Al massimo possiamo sacrificare l'uccello E non è la prima volta che sono costretto a dire questa frase Che bella nonna, vuoi calpestarmi anche tu? La nonna vuole che io ricombatta con Op Anche la nonna è una sadica bastarda, quindi Guarda, nonna, come sbatto addosso a tutti i tuoi mobili Lo senti? È la forza del mio alluce Anche tu hai una bruttissima tartaruga Squi, tua madre! Questo arriva, pensa di insultare mia madre Questa è chiaramente una stanza molto femminile Ma più da teenager che da nonna La nonna c'ha le cuffie lì appese È proprio davvero gamer Prende il tablet, capito? Si infila le cuffie e va Hai capito la nonna? Guarda, guarda il portascarpe Come lo vuoi chiamare qui Tutto organizzato Guarda gli smalti Ma la nonna La nonna è da dentro, eh? Pronto, Hop? Giuro che si è catturato Pochonf Mi arrabbio, eh? Ha catturato uccello! Lasciamo che i nostri uccelli si colpiscano a vicenda E no, non sono affatto gay Voglio che vada via piangendo, Hop Voglio che guardi suo fratello E suo fratello realizza Che schifo Un fallimento totale Bam! Adesso si gira Suo fratello lo guarda Puh Mi sputa in faccia Che schifo Schifo mi fai, Hop Schifo Poi guarda me Si caga addosso Letter of endorsement Una lettera di raccomandamento? Siamo dei raccomandati? Non mi piace essere raccomandato Ma ti prometto che ripagherò il favore Prendendoti a calci Wow, una stella catente? Hop È caduta lì Non è esplosa Non è successo nulla Sonia Mi sdraio subito Per favore Camminami sopra Se c'è una pozzanghera Mi ci metto io sopra Per favore Così che tu non possa bagnare I tuoi umili piedi Mi piace l'interfaccia grafica Di tutto Sonia Ho quel sorriso Ti prego Dammi uno schiaffo Picchiami Fustigami Frustami Camminami sopra Sputami Sputa Mi ho detto Ah, Sonia Sono così felice ora Che ho visto Sonia Hop Che rottura di palle che sei Mi sta spiegando le basi Di Metal Gear Questo qua Che devo avvicinarmi Accucciato Accucciato Ciao tesoro A dopo Pochonf Perché non sei nell'erba? Ciao Sei accorto di me? Che vuoi? Che sta facendo? Vuole giocare? Che vuole fare? Pochonf Mi segui Pochonf? Ah, volevi combattere Però che carina questa cosa Non capisco ma Hop Mi sta già altamente sulle palle Non ai livelli dell'assistente di Monster Hunter Che secondo me Io adesso posso regolare La mia rottura di palle Per i personaggi secondari Basandomi su quella Chi raggiunge O si avvicina a quel livello lì È in zona pericolo Swinub Ma tu sei uno dei miei Pokémon preferiti Swinub Ciao piccolino Ciao Lo voglio Dove l'hai preso idiota? Dove l'hai preso? Hop Ancora tu Ma perché non vai E ti affoghi in quel lago? Ci vediamo la lega Pokémon Facciamo così Ognuno per la propria strada Ci vediamo là Alla fine Se ci arrivi Wow Posso controllare il mio box Anche a distanza Non proprio il top Per quanto riguarda La Nazlock Vuol dire che in ogni momento Io posso depositare un Pokémon Cura Curarlo Di conseguenza E tirarlo fuori Comunque qui nasce un problema Perché io posso catturare Un Pokémon per percorso Però essendoci questo mondo Ampiamente vasto Come funziona qui? Innanzitutto Sonia Ogni cuore che hai appeso ai capelli È un cuore che hai spezzato Perché allora È la mia più grande ambizione Finire tra i tuoi capelli Pokémon Camp What? Sì ma perché io non mi posso muovere? Mi dà molto fastidio A questa cosa Kisuko Vieni qua Scemo Guarda cosa c'è Kisuko Guarda cosa c'è Vieni qua Stupido rospo Girino strano Guarda Kisuko Guarda Guarda una palla Stupido Kisuko Porca zozza Guarda Kisuko La pallina La prende? Che fa? Oh Kisuko Come diavolo hai fatto A prenderla con la testa? Che diavolo Di potere È mai questo? Non gliela posso tirare troppo lontano Perché a quanto pare ha problemi motori Cooking? Ah io ho soltanto questo Ma mettiamocene cinque Chi se ne frega così Poi ci mettiamo una di questa E siamo pronti Che devo fare? Fan the flames Sto fannando Sto fannando Lo senti l'odorino Uccello? Gira Mescola Mescola È quasi pronto Zia Caterina? Ah ok C'era un timing Strano Oh mio dio Un vero cuoco Un maestro Bello Mi ricorda Final Fantasy 15 Sugoi Taste rating Wobofet class Signori Questa meccanica Mi piace Ok Qui siamo in Rolling Fields Quindi questa è una zona E immagino che Che siano divise a zone Vedete Drupal Groove Sì Sono come percorsi Infatti sono punti Quindi in ognuno di questi Io potrei catturare Un Pokémon Oddio Sono costretto a catturare un Onix Però dopo non saprei Come farti evolvere You found a note Did someone drop it here? I Pokémon Grandi Che vedi nella Wild Area Sono forti Ah ok È un suggerimento Quindi quelli che tu vedi Andare in giro così Sono forti Non sono proprio da catturare Devo sperimentare Devo vedere Di cosa si tratta Very strong looking Onix Sta anche grandinando 26 Oh shit Ci salveremo con la Poké Doll Signori Meno male Meno male avevamo la Poké Doll Pensavo sì più forti Ma tipo Che fossero al 15 No al 26 Sei tu Mato Shake it Un po' di berries Bebe Shake it more What? Un Pokémon Oddio adesso devo catturare te Oddio è vero che è vero È d'erba questo maledetto Kisuko Uccello Non far morire Kisuko Pensaci tu Devo sempre ricorrere all'uccello Ho un'abilità però piuttosto utile Lo vedo bene nella mia squadra Mi manca un Pokémon d'erba Mi sono completamente scordato che Volante distrugge Esplode erba Ma io direi Che il Pokémon da catturare in questione Lo troviamo così Cioè selvatico nascosto Piuttosto che andarlo a cercare Secondo me è più onesto Io adesso devo catturare sto coniglio Che non mi sta affatto simpatico Cerchiamo semplicemente di non ucciderlo Stavolta Sarebbe stato molto Ho detto Kisuko Cerchiamo di non ucciderlo Magari l'hai fatto apposta E lasciarlo già così Morente Però Che non mi fa neanche impazzire Come Pokémon da prendere Ma vabbè Le regole sono le regole Gino Max Ride Battles Ah Un Diglett gigante Mio Dio la violenza Sarebbe questo il gioco cooperativo Di cui Giulio mi cercava di parlare Dynamax What? Max Geyser What? Kisuko Si è diventato enorme Oh mio Dio Non mi piace questa cosa di Pokémon enorme Cioè mi piace quando tu sfidi un Pokémon enorme Con i tuoi Pokémon piccoli Però Un'onda energetica è diventato Super effective Cosa faranno gli altri? Ha iniziato a piovere addirittura Mi piace Cioè Quella botta di mossa lì Ha fatto iniziare a piovere È andato Che vuol dire? Devo Devo catturarlo Per forza? Perché nessuno mi ha spiegato niente? Non posso catturarlo Magari lo catturo e lo metto nel box Non lo so Facciamo così Chiedo a Kisuke Ok con Kisuke abbiamo discusso Abbiamo deciso che va catturato Un Pokémon Gigamax Per medaglia Quindi non lo catturo Ah Ecco di cosa mi parlava Kisuke È un MT però che Ha solo un utilizzo Sempre con Kisuke Dopo aver visto anche bene la mappa Abbiamo deciso Che in una wildaria Posso catturare un solo Pokémon Abbiamo deciso di fare così Perché poi i percorsi normali ci sono Quindi sarà uno per percorso Se questo è un unico percorso Poi c'è un percorso qui Uno qui E iniziano a diventare un Buon numero di Pokémon Quindi io direi di Smettere di catturare E mi dovrò tenere quel coniglio pessimo E niente Oh Rosalia Guarda che carina Quanto è piccola Guarda c'è Utut Che carino Che bello vedere i Pokémon così in giro C'è l'orsone gigante Quanto è bello vederlo in giro così Guarda quanto è grosso No no Non c'è niente qui Non c'è nessuno No Kisuke musica epica Oh Pangoro Ti ho appena disegnato Ti ho fatto benissimo Giuro che ti ho fatto bello Quindi qua c'è un Pokémon Dinamaxato Fammi capire Ghost e Poison Quindi è Ghastly sicuramente Ci combatto soltanto per livellare un pochino Dovrebbe morire in questo turno Yes XP Candice Cosa sono? Palla ombra? Ma dai Questa è una gran figata Ah E' mei coglioni Cioè Quindi posso tranquillamente raggiungere Kisuko così Boom 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 Ho superato Kisuko Allora Kisuko Tu dovrai raggiungere Uccello E guardate un po' Chi si sta evolvendo Kisuko Vediamo subito l'animazione La prima volta che vedo l'animazione Dell'evoluzione Wow Un rospetto emo Guarda quel ciuffo Signori Wow Quagsire grosso Stai calmo No Eeeh Tua madre Oh Gino ha un'ottima natura Ah no in realtà no Perché lui avrà tutti i attacchi fisici Gino ha una natura di merda Sapete In una Nazloc In realtà mi sto godendo molto molto Di più il gioco Proprio perché Sto esplorando un po' di più E mi sto perdendo molto Meno nei combattimenti Molto meno nelle catture Vuoi prendere il più in fretta possibile La prima palestra La città di Motostock Sta per assistere all'entrata Del futuro campione Lo sterminatore di bambini Mazza se è grande sto posto Altro che le vecchie città pokemon Che è quello che balla Con la testa pokemon A pokeball E così questa è Motostock E' la prima tappa del mio viaggio Per compiere un genocidio Di animali domestici Questo mondo è malato Da quando gli umani Hanno iniziato a utilizzare I propri animali domestici Per combattere Non lo so Sonia Non hai sentito niente vero Io sono una persona dolce E umile E Picchiami ti prego Vuoi scambiare il tuo Bunnelby Per il mio squavet No non è Si è Gino Attenzione Sei stato utile Come un fazzoletto Già sozzo pieno di muccelli E catarro Riutilizzato per pulire il tavolo Halley Capelli Almeno qui me li posso tagliare Sono io Manca soltanto il pizzo Che non posso avere Perché ho 11 anni Però chissà Questo è un tocco che mi piace Tutto somia molto di più a una città C'è della pubblicità Finalmente la città Sembra un po' più viva E' sempre molto vuota Perché cioè Perché fare uno stradone così Se ci passano 5 persone di numero Pensi di intimidirmi Con il tuo Charizard nano Charizard non può essere così piccolo Signori Cioè l'orzone che abbiamo visto prima Era più grosso What? Mamma mia Con quella forza Una persona normale Sarebbe volata via E morta C'è il personaggio L'altro che utilizziamo Come riferimento Per il Pokétuber Il mio numero dell'uniforme Questo mi sembra il numero più adatto Perché c'è un Cristo di Cavaliere Di Final Fantasy lì praticamente Quando non c'erano i Pokémon Si menavano le persone Facevano le guerre Poi hanno deciso No utilizziamo i nostri cani What? Noi sono i cattivi della situazione Team Yell Team Urlo Davvero? Allora Mi piace il colore rosa Quindi ammetto Che non mi state antipatici Però Le Borchie e gli Spunzoni L'abbiamo già utilizzati Ah 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 Voi Team Urlo Possate sfidare me Fio di Pdor Fio di Kmer Fio di Bjar Della tribù di Mennacar Oh ma come è successo Porca di quella zonza Eeeh Eeeh Era il mio zigzagone Io volevo soltanto Un cane Da trattare Tutti quanti Devo battere Ops Si è sciotto già tutti quanti E non mi sono fermato per niente a livellare Cioè ho ammazzato 5 Pokémon venendo qui per strada Com'è possibile che io ho già sciotto le cose? La difficoltà di Pokémon è vergognosa Ah mi tocca combattere con questo simpaticone di Hop La persona che più tollero al mondo Hop fatti da parte Lascia combattere il mio uccello Più che altro Non so se lo sapete ma per fare quel make up Basta prendersi il rullo no? Lo immergi e te lo passo in faccia Il personaggio carino che utilizzo anche questo Sempre come riferimento sul Poketuber Marni Non dirlo a Sonia ma Camminami sopra ti prego Mi piace molto il tuo taglio Ci baciamo? Non è questo che fanno uomo e donna? A undici anni E me ne scordo sempre signori Se ci pensate il mondo di Pokémon è un Pokémon ideale dove I movimenti economici Non sono altro che un bullizzarsi a vicenda Nel senso non c'è un lavoro per i bambini Ho ben due Pokémon d'acqua adesso Non è un bene in realtà Però è sempre vero che Mi servono Pokémon per i lavori E se mai morisse Kisuko Cosa che Incrociamo le dita Speriamo non accada mai Devo avere una riserva d'acqua Che cosa Bellissima È questa Cor è un Pokémon Fighissimo questo È il mio Pokémon preferito di già E praticamente mi ricorda Bloodborne Cioè per esempio è uscito da Bloodborne Lo voglio Oh my goodness Nel mio altro account Sarà il mio Pokémon principale Del mio team PvP Cioè ruoterà la costruzione intorno a quello Ve lo dico Che poi se siete interessati a vedere del PvP più avanti Fatemelo sapere fin da subito nei commenti Ok siamo pronti Con il numero magico Per entrare nel primo stadio E non so fare cosa Battere il capo palestra Non lo so Non lo so Allora il fatto che finalmente Ci sono le persone che guardano la fight Questo mi piace Questo sembra molto più una performance Un'esibizione Uno sport Ci piace Ci piace Vedremo tutti subito Tutti i gym leaders Che bello Posso già giudicare il loro design E bla 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 Li fanno uscire in modo epico Ci piace Ecco quella qua Tica Di cui tutti hanno fatto fan art Estremamente erotica Uh quella di ghiaccio mi piace Questo è quello che non mi piace affatto Lei vabbè Le fan art sexissime Questo cos'è fuoco immagino Non mi fa impazzire Lei mi piace O lui Spettro Mia preferita Signori Mia preferita E matura la signora Si vede perché hanno fatto un piccolo dettaglio sotto l'occhio Che fa pensare un minimo di rughe Quindi una cinquantenne si potrebbe dire Sono sette Eccola No sono io Eccola il grandissimo ottavo capo No è un deficiente con il numero 69 Adesso tutti urlano Wow il numero 69 ma sei un grande Wow Sono sicuro che questo qua c'ha qualcosa di zozzo sotto Questo è uno zozzo mafioso che sotto sotto Aum maum c'ha tutte le cose un po' Oh un polosche Oh guarda sto vecchio Anche lui partecipa Che grande Vecchio C'è un grande Tu devi essere il campione non io Io sono sfigato in confronto a te Non vedi questi Sapete chi sarà il prossimo campione O io o quel vecchio lì Anche tu tesoro se vuoi puoi essere campionessa Basta che mi cammini sopra Oh anche tu tesoro Se vuoi prendere a schiaffi Sputarmi in un occhio Puoi diventare campionessa quando vuoi Hop vuoi ancora combattere ma non mi dire Mi chiedo quando smetterà di sfidarmi Inizierà a piangere a rendersi conto Che non può nulla contro la potenza E la cattiveria di un uomo in una nuzzlock Ah ok comunque i livelli iniziano un pochino a bilanciarsi Non troppo Sono comunque leggermente over leveled Ma leggermente proprio E' vero che con il mio uccello posso fare questa mossa Che mi potenzia parecchio Basta che la faccio un paio di volte Poi posso distruggere la squadra avversaria Vediamo se lo shotta Dopo due Lo shotta Oddio Meno male che la bacca è il mio uccello Inizia ad essere vagamente rischioso il tutto Dai stai zitto Tira fuori il tuo uccello Uccello contro uccello Sbattiamo i nostri uccelli L'uno addosso all'altro Lo shotto il suo uccello con il mio uccello? Penso proprio di sì Sì Per sicurezza non si sa mai Ah 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 Vado a curare il mio uccello Mi sono scordato una cosa fondamentale Grazie Stai calmo Crowlit Stai calmo Allora ho deciso Assieme a Chisuko Catturo il pokemon Tra virgolette Non che voglio Però vorrei della nuova generazione Non sapendo un cavolo dei nuovi pokemon Della nuova generazione Adesso appena vedrò un pokemon nuovo Interessante Lo catturerò Wow Cosa sei tu vieni qua da papi Un folletto E per forza un folletto Potrebbe essere anche erba Però Cotton down C'ha un'abilità buonissima Porca di quella zozza Ma che stiamo scherzando? Guarda quanto è carina questa pokeball È cambiata Perché una volta era solo rosa appunto Invece adesso ha questa grafica Tatiana Più forte di Ermanno Dì già Ermanno cioè sei inutile Guarda Tatiana com'è felice Sente l'odorino Mi piace Tatiana È proprio carina Sembra un cono gelato con i petali Però ok Uccello Sali di livello Attenzione Uccello Si evolve Attenzione Wait a second Corvish Quire Ma questo diventa quel corvo magnifico? Jackpot Perché io volevo quello Ah stai calmo Ah Questo bambino di colore Osa sfidare me Un uomo di colore Come finirà Oh si chiama Marvin Marvin è l'insegnante di danza di Toppy Allora forse sarò clemente Perché non piangono? Perché non piangi? Piangi Piangi o ti sbatto addosso Piangi Wow una miniera Guarda quant'è carina Poi qui potrei catturare un altro Pokémon Timbur Secondo me signori Lasciatemi esprimere Nero e Bianco Ci ha avuto i Pokémon più brutti della storia Una cosa che non ho mai sopportato Che era tollerabile nei primissimi Pokémon Perché i Pokémon erano pochi Ma adesso non più Sono allenatori con lo stesso Pokémon Non puoi avere due Timbur Tre Timbur Quattro Timbur Cioè vuol dire che sei una maniaca di Timbur Volevi fare la squadra di lotta? Ci sono i Machop a poca distanza da qua Endovina cosa tira? Di nuovo un Timbur Mi farò una squadra di Caterpie La cosa più stupida nei giochi Pokémon secondo me è questa Allenatori col Mono Pokémon La squadra Mono Pokémon Vi ricordate l'avventuriero con tutti i Geodude? Il pescatore con 5 Magikarp Ve lo ricordate? L'avrei voluto uccidere proprio fisicamente Allora un ipotetico Pokémon che potrei catturare È questo qua di pietra Ma voglio vedere se sbuca fuori dell'altro Prima di uscire da questa miniera Guardate Cioè anche questo no? È proprio brutto Sembra uscito da un altro cartone Non da Pokémon Nero e Bianco Pokémon più brutti What? Zia Catarina si sta evolvendo Quindi potrebbe avere tre evoluzioni Zia Catarina Secondo me sì No ma Zia Catarina C'ha i baffi Ho capito Una volpe ladro Quello che c'ha la maschera C'è il tizio Ah quindi anche tu Hai animali domestici da far combattere Solosis? Il tuo Solosis Può resistere al Idropulsar più micidiale della No No non può Pensavo di sì in realtà A questo piacciono i Pokémon psico Zia Catarina Minchia Vieni fuori Zia Catarina non delude Pure è la prima volta che la uso Sono fiero di te Zia Catarina Hatina Che diavolo è Hatina? What? Ah È bellissima Sembra Kirby con i capelli È un cappellino da parti Dimmi dove l'hai preso Dimmi dove hai preso Questa dolce Bellissima creatura Morta però bellissima Te lo dico amico eh Bella 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 Mua Proprio carina La voglio anch'io Ah guarda Arrobiota Mette il mucetto eh Dammi i soldi Zitto Roli Oli Poli Adesso sai chi è? Giro il mondo Tutto Tutto Tipo Pinga Perché c'è Sasso Linda No lo voglio nel mio party Perché se no rimani indietro con i livelli E c'ho troppi Pokémon Normalissimi Quindi Cheekers Te ne vai Nel box Grazie Quanto diavolo ci vuole Per fare la prima palestra In questo gioco Di solito ce l'hai subito davanti Oh guarda Quello è lo stadione È la palestra Un allevatore di Pokémon COWAT WAAAAT COCHEMIAU Ma c'ha la barba? Wow sarei interessato a catturarlo Soltanto per capire Wow Sta per piangere Ah Piangi Ah Davi i soldi Ah Perché mi insegui? Voglio controllare Se c'è qualcuno Della nuova generazione Milseri È quello che ho visto Nella caffetteria Essendo una donna Ti metterò sempre Nella Pokéball rosa Preso Milseri Signori No Cacchio Non me la vaschio Volevo chiamare Liquid Come Liquid Snake Poppy Gloria No L'ho avuto nel mio party Tutta la vita Qualcuno si dovrà sciacquare Ermano Tu sei stato alquanto inutile E poi sei d'acqua Non mi servi Ho già chisuko Ciao Io ho soltanto paura Di una cosa per Milseri Perché Milseri Ovvero Poppy Gloria È bellissima Ma ho paura Che quando si evolverà Si trasformi in un mostro Se si evolve Io spero Che sia uno dei miei Pokémon Che rimangono così pucci e carini Ciao bambina So benissimo Che quelli del tuo genere Si mettono a piangere A fine lotta Quindi Ti sto sfidando appositamente Per quello Anche tu una Poppy Gloria? Non per questo mi tratterò Uccidi la sua Poppy Kisuko Bravo Kisuko Co Cosa? Perché? Perché è felice? Perché non piangi? Bello che io sto con Kisuko Pokémon d'acqua Dritto per dritto Non guardo in faccia Nessuno Mazzoli elettrici Me ne frega niente proprio Cosa? Il Miao Ah non ti posso catturare Sono il mio Nazlock Proprio difficile Questa Nazlock Una vera sfida Mi sta proprio Tenendo concentrato Un Lotad Dove lo hai trovato? Io ho trovato solo l'ombre Ah non mi attaccare Maledetti Electwire Ah una caramela rara Ah perché ce l'hanno con me Via Ah un Electwire Dal nulla Mamma mia Sono minacciosi questi Se ci pensate Adesso i Pokémon Sono vivi E stanno in giro Capite anche quali sono Le razze più aggressive Le specie più aggressive Il che lo trovo molto fico Perché gli Electwire Non gli ne frega niente A che livello sei Chi sei Ti attaccheranno sempre Perché gli gira le palle Proprio Sono nati così Che proprio gli gira Oh Mi dispiace Eevee Ma devi morire Sono in una Nuzlocke C'è un bel po' Di difesa speciale La cara Eevee Meriteresti di essere Catturata solo per questo Ma non posso Al contrario Nell'altra run Ti dovrò catturare Non so quante volte Visto le tue Molteplici evoluzioni Ciao Pochonf Chi è stato Pochonf? Ah che è stato Pochonf? E siamo arrivati a Torfield Non mi dire che vuoi Ricombattere Hop Perché combattiamo fisicamente Ti prendo a cazzotti Sulle palle Ti giuro Mi ha dato Sonia così carina Che mi ha dato Due revitalizzanti Ma io Sonia Non li posso usare Li terrò nelle mutande Pensando a te Sonia vieni Siediti vicino a me Guardiamo i simboli Degli alieni insieme Vado a distruggere Il tizio d'erba Eh ciao No sono troppo basso Beh bambino Se per questo Tu non raggiungi Neanche questo Abbiamo aggiornato Il nome di uccello E un uccellone Perché è diventato più grande Oh mio dio Mamma mia Ho più Lo picchio Ah mi sta dicendo Che lui già l'ha presa Se l'ha presa lui Allora io questo Lo faccio mettere a piangere Mio dio se costano Gli uniformi Però me la compro Perché ho questo uniforme Me l'ho appena comprata l'altra Sembra un deficiente Con questo uniforme Sembra davvero Che sono andato a fare Una partitella di calcio E sapete che Io odio il calcio È una miseria Se è piccolina eh Ok ok Chiaro Devo far andare Le pecore laggiù Very difficult boys Ah Ma adesso c'è un po' Chonfli Vada via signor Pochonf Anche tu hai una Tatiana Interessante Beh Io ho un uccellone Ups Oh so dead So dead I'm so sorry Samuel mi dispiace È esplosa Guarda il lato positivo Si mimetizza con il prato Sei un lui o una lei Sei sempre lui E sei Wow Sei fratello Gemello di Samuel Oh Un semino Sai cosa mangia Il mio uccellone I semini Cioè ti avrei pensato A cosa è Odish È una palla No Una sacca Con le foglie sopra Cosa dovrebbe richiamare Beh Ora richiama la morte Il mio uccellone Non si tiene eh Quando lo lascio libero Pam 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 Davvero questa Nazlock È stupida Non è per niente difficile Come dovrebbe Nel senso Si arriva comunque Abbastanza over leveled Dove bisogna andare E wow Guarda il pubblico Che aspetta Adesso ci avrà Pokemon pessimi Tutti magari alla prima Massima seconda evoluzione Gym leader Milo Attenzione Mi sfida Tu sfidi me Ma sì dai Facciamo subito una strage Pam Si è svampata Ti immagini La scena Sono tutti i pezzi Che volano Si appiccicano Adosso al muro Le persone Elgigos What Che cos'è Quella magnificenza Che hai lì Che cos'è Quella cosa Bellissima Che simpatico Un batuffolone Di cotone Voglio anch'io Il tuo pokemon Dove lo hai preso Cioè mi dispiace Che adesso Lo devo svampare Perché C'ho ancora Un altro turno Una vera sfida Questo capo palestra È andata Signori Finisce così Questo primo Infinito episodio Lo so Lunghetto Non so quanto sarà venuto Lungo in post produzione Penso che sia stato lungo Soprattutto Io nel frattempo Sto anche leggendo In inglese Pensate Che big brain Che sono Penso che si sia allungato Per una lunghissima Introduzione Sì io vorrei sapere Come faccio a cambiarmi Ma comunque In questa città Non ci sono negozi Non c'è un ceppo di niente Cioè Un cazzo di stadio Non puoi entrare In nessun'altra parte A parte il centro Poggio Bla 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 Ciao bellissima Che nasone Gigante che hai Signori Finisce qui Questo episodio Qui alla mia Sinistra o destra La mia destra Pariranno dei video In sovraimpressione Che potete cliccare Prossimo episodio Di questa serie Fra una settimana Due Non lo so Perché come vedete Richiede molto tempo E compattiamo Tutto insieme Iscrivetevi Se non siete iscritti Ma soprattutto Date un cazzottone La campanella Campanella Woo